buongiorno a tutti eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il primo dicembre e diciamo che ancora il natale si avvicina e quindi i titoli dei giornali delle prime pagine sono dedicate al nuovo dpcm che dovrà regolare tutte le vicende del comportamento degli italiani per il natale corriere della sera chiusi gli alberghi in montagna ma in realtà poi invece repubblica titola sui 5 milioni di nuovi poveri che sono determinati dalla virus la stampa si occupa invece dei vertici di unicredit via muster paga il no mps e il giornale si concentra sull'europa che vieta la messa insomma titoli variegati poi però le pagine interne sono dedicate soprattutto a questo però vorrei segnalarvi che oggi è una giornata importante per coloro che hanno una certa età soprattutto perché oggi sono 50 anni dall'approvazione della legge sul divorzio e diciamo c'è proprio una bandana d'amnazio memoria se volete sui giornali quattro giornali oggi parlano di questo due uno in particolare segnalo che il corriere della sera che è indubbiamente il giornale più importante se non altro per le vendite in italia riesce a dedicare due pagine una pagina intera con gianantonio stella alla approvazione della legge fortuna deputato socialista baslini deputato liberale ma con l'appoggio decisivo e determinante della lega per l'italiana del divorzio con marco pannella mauro mellini gianfranco spadaccia e tanti altri insomma gianantonio stella riesce a fare un'intera pagina senza praticamente citare mai né radicali né marco pannella il titolo è il mezzo secolo del divorzio che cambiò le famiglie in italia la norma spaccò il paese provocò una rivoluzione dei costumi e qui ci sta di tutto ci trovate roberto rossellini ingrid bergman ci sta da coppi tutto c'è ma vengono totalmente spunti dalla storia di una battaglia che vede invece radicali in primo piano i radicali non diverso è il l'atteggiamento del del messaggero che diciamo è vero che con valeria arnaldi si occupa diciamo di come sono cambiate le cose dopo il divorzio divorzio assegno casa figli cosa è cambiato 50 anni dopo tempi abbreviati mantenimento sempre più raro tutela chi perde il tetto ritocchi alla legge che oggi compie mezzo secolo ma insomma c'è un po anche la storia di quello che è accaduto totalmente e spunta la vicenda radicale pannella mellini eccetera eccetera va dato atto invece all'avvenire che pure sicuramente diciamo fa parte di una comunità che la conferenza episcopale italiana che certamente non era schierata a favore del divorzio che però nel ricordare 50 anni fa il divorzio l'inizio della secolarizzazione con eliana versace a un certo punto dice ad appoggiare la proposta del deputato socialista si aggregò un gruppo di ispirazione radicale organizzato da marco pannella che promosse una lega per l'istituzione del divorzio in italia i toni accesi e polemici da una parte della stampa laica italiana nei confronti delle posizioni contrari ai propositi di istituzionalizzazione del divorzio ribattite dalla chiesa suscitare un'amarezza in paolo sesto eccetera eccetera ma insomma diamo riconoscimento all'avvenire di ricordare almeno citare pannella e radicali cosa diversa fa il riformista mette in prima pagina loris fortuna deputato socialista e padre della legge sul divorzio il giorno che l'italia scoprì di essere laica divorzio 50 anni dalla legge fortuna e poi però nelle pagine interna ci sono due storie che sono rivissute una è quella di gianfranco spadaccia e voglio reggere un passo perché è utile anche ricordare che cosa fu quel tempo e scrive tra l'altro spadaccia la che è un radicale storico è uno dei fondatori del partito radicale la battaglia ideale politica laica per l'istituzione del divorzio divenne per questo anche una grande questione sociale un confronto uno scontro che non riguardava ristretti ceti elitari ma aveva la propria origine e le proprie radici in un'ampia base popolare questa fu la ragione per la quale nonostante i rapporti di alleanza di socialisti e laici con la dc la lid legge italiana per il divorzio di marco pannella loris fortuna e mauro mellini riuscì a tenere unita a rafforzare lo schieramento divorzista e vincere le esistenze iniziali dell'opposizione del partito comunista che dopo le politiche del 1968 unì le firme di nilde jotti di ugo spagnoli e di altri suoi deputati a quelle di fortuna basdini e degli altri firmatari laici e socialisti scrive ancora spadaccia l'approvazione e promulgazione chiuse il confronto parlamentare ma aprì lo scontro politico non solo con la chiesa di paolo sesto che aveva promosso un referendum aborgativo ma anche con il pc di berlinguer e una minoranza di laici che erano disposti a modificare e snaturarla pur di impedire il voto referendario alla fine anche grazie alla resistenza dei socialisti il referendum si svolse e fu vinto dai sostenitori del divorzio con un'ampia maggioranza quasi il 60 per cento di no all'abrogazione che smentirono il pessimismo del segretario del pc secondo quale il referendum si sarebbe vinto o perduto per pochi voti quello scontro che si protrasse per tutti gli anni 70 e poi l'inizio degli anni 80 ebbe altri meriti oltre a quello di confermare la legge fortuna in primo luogo quella delle vittorie parlamentare referendaria e referendum che radicali contrapposero a quello abrogativo del divorzio fiaccarono le resistenze clericali e conservatrici ed aprirono la strada a quello che amo che amo definire la rivoluzione dei diritti civili dall'obiezione di coscienza al servizio militare al voto ai diciottenni dalla riforma del diritto di famiglia alla chiusura dei manicomi dalla legge 194 che aboliva il reato di aborto e legalizzava l'interruzione di gravidanza stabilendone modalità e limiti all'adeguamento dei codici all'ordinamento penale militare dalla costituzione l'italia conobbe una densa e proficua stagione di riforme legislative e civili e grazie a quelle lotte politiche a quelle riforme crebbe la lotta per l'emancipazione e la liberazione della donna dai condizionamenti a cui la costringeva una legislazione una cultura ancora patriarcale ed ebbe inizio con il fuori quella per la libertà sessuale omosessuale senza quello scontro politico scrive spadaccia e quelle riforme gli anni 70 e la prima metà degli anni 80 sarebbero stati ricordati come gli anni di piombo perché come sapete poi si sviluppò il terrorismo avete sentito come diciamo quella battaglia sul divorzio di fatto diciamo aprì anche una stagione di riforme per i diritti civili a tutto campo ecco l'altra cosa allucinante che oggi Laura Sabatini sulla Repubblica pagina 32 ricorda parlando proprio del divorzio esattamente quelle quelle riforme ma anche qui diciamo non si tiene minimamente conto e non si dà minimamente atto di che la stragrande maggioranza di quelle riforme furono tutte figlie dell'iniziativa radicale in particolare di Marco Pannella scrive Linda Laura Sabatini il primo dicembre 1970 passa la legge sul divorzio si apre la grande stagione dei diritti civili e sociali conquistati dopo 50 anni è ora di aprire una nuova stagione dei diritti per creare presupposti perché i diritti e la libertà conquistate siano veramente fruibili da tutti basta pensare alla ritratezza della situazione delle donne meno della metà lavora e non c'è verso di aumentare seriamente i posti nido e le infrastrutture sociali sono stati stanziati 100 milioni in legge di bilancio dal 2022 che si incrementano di 50 milioni l'anno fino al 2026 sono a regime è vero ma sono pochi bastano per l'incremento di un solo punto percentuale dell'offerta nel primo anno andiamo per ordine e sentite qua negli anni 70 in soli nove anni è avvenuta ecco è avvenuta come se fosse avvenuta per grazia ricevuta una vera e propria rivoluzione nei diritti nel 1970 oltre al divorzio si varò lo statuto dei lavoratori un anno dopo la tutela delle lavoratrici madri con il permesso di maternità il divieto di licenziamento in gravidanza e sempre in quell'anno l'istituzione della scuola a tempo pieno i nidi pubblici da 0 a 3 anni nel 1972 l'obiezione di coscienza ecco segnalo che roberto cicciomessere ne sa qualcosa fu proprio in iniziativa dei radicali con il servizio civile nel 1973 la tutela del lavoro a domicilio nel 1975 il nuovo diritto di famiglia non più un capofamiglia padre padrone ma padri diritti e doveri per uomini e donne almeno sulla carta ma importante molto importante sempre nello stesso anno la legge sui consultori e indovina un po chi l'ha proposta e poi la riforma penitenziaria ecco la prevenzione per la cura e la riabilitazione della tossicodipendenza è ma non è finita dice giustamente la sabattini nel 1977 la legge sulla parità tra uomini e donne e lavoro un anno dopo la riforma sanitaria basata sul circuito di prevenzione cura e riabilitazione il diritto alla salute e poi la legge contro la piaga degli aborti clandestini è indovina un po chi l'ha promossa e l'interruzione volontaria della gravidanza e ancora la legge basaglia è per esempio chi si batte per la chiusura dei manicomi segnalo alla sabattini che se ne occuparono i radicali ma insomma le cose vanno così i radicali lo hanno vissuto quando le conducevano le battaglie e continuano a subire sostanzialmente la cancellazione della loro iniziativa che pure fu così determinante per il paese un po' come accade anche se c'è stata l'eccezione sicuramente di domenica con i tre articoli sui tre quotidiani principali che ci sono state con saviano manconi e veronesi ma quanto sta accadendo per lo sciopero della fame che sta facendo rita bernardini sul tema delle carceri ma ce ne occuperemo e continueremo a occuparci bene passiamo adesso al virus che ci accompagna ormai da un anno quasi in realtà si da un anno allora vediamo i numeri numeri che oggi non fendono per il buono pagina 6 risalgono i morti 672 e tasso di positività ancora in cali casi dice aumenta di quasi un punto al 12,5 per cento il rapporto il rapporto tamponi contagi e l'oms dice nel mondo prima discesa dell'epidemia da settembre questo come al solito è mariolina iossa che ci dà questa informazione sui dati ma la cosa più succosa ovviamente è il tema di che cosa si farà per il natale le vacanze e compagna bella c'è un dpcm alle porte torna anche lo scontro con le regioni di questo si occupa alessandro trocino sulla pagina 2 del corso della sera dalle seconde case alle palestre fronte delle regioni sui divieti il confronto in vista del summit di oggi con il governo per il nuovo dpcm governatori del centrodestra critici incongruenze e regole da rivedere poi se volete nel taglio basso c'è ciciliano che non avevamo ancora sentito che è un rappresentante del cts e dice no a spostamenti e vacanze deroghe per le famiglie distanti bimbi e anziani tavoli separati però dice tutti in classe il 7 gennaio con un piano straordinario ma della scuola poi vedremo perché c'è come al solito un capitolo a parte che affrontiamo poi se volete monica guerzoni era fiorenza sarzanini che intervistava ciciliano monica guerzoni e fiorenza sarzanini firmano l'articolo di pagina 3 del corso della sera ma è pronto il giro diviso di vite chiusi alberghi e resort nella località di montagna scuola in campo i prefetti le nuove disposizioni dovrebbero valere dal 20 dicembre al 10 gennaio e per chi torna dall'estero dopo l'inizio della stretta c'è la quarantena così la mette il corriere della sera la stampa pure due pagine la pagina 6 e 7 il pressing delle regioni in vista delle feste consentire viaggi aprire ristoranti i presidenti vorrebbero allentare la stretta la commissione ue raccomanda messe non in presenza anche per questo vedremo un capitolo e nel taglio basso l'intervista di mario de fazio qui era luca monticelli che parlava prima nell'articolo ora è mario de fazio che intervista giovanni toti che sapete il governatore della liguria natale è la champions dell'economia adesso serve una zona bianca il virus offre spazio usare equilibrio e buonsenso dice toti l'appello a roma pensare a una fascia cuscinetto tra quella gialla e l'assenza delle regole se volete poi andate a pagina 7 e qui trovate il retroscena di federico capurso e lario lombardo il governo studia una deroga per far riunire genitori e figli l'esecutivo prepara il nuovo dpcm le richieste che arrivano dai governatori saranno respinte spunta l'ipotesi di vietare anche gli spostamenti tra zone gialle in alcuni giorni ritenuti a rischio questo è quello su cui si sta orientando il governo vedremo poi effettivamente sapete che il parto del pcm è sempre un parto molto difficile e che arriva sempre diciamo anche molto all'ultimo momento spesso e volentieri quando la gente si trova il giorno dopo a dover seguire delle cose che neanche ha minimamente sentito ma il messaggero anche a pagina 3 e 4 a pagina 3 ecco qui il viminale il nodo negozi controlli con i vigilantes presto una nuova circolare del ministero per impedire gli assembramenti nelle città previsto un giro di vite per aeroporti e stazioni posti di blocco in autostrada insomma sono norme che fanno più pensare a diciamo insomma non voglio esagerare sì ma qualche giornale lo mette sembra un enorme antiterrorismo in questo caso viene intervistato da diodato pirone mentre prima erano valentina errante cristina mangani che firmavano l'articolo e qui diciamo diodato pirone intervista è artorio de caro che oltre a essere il sindaco di bari anche il presidente del lanci che dice sia i divieti per evitare la ressa in strada ma non blocchiamo lo shopping sicuro il presidente dell'associazione comuni dice vanno prese misure gestibili e chiare per i cittadini e poi ancora de caro dice in questa intervista pandemia finita bisognerà riscrivere i rapporti fra cento e peferia ma ora niente polemiche poi se diciamo volete sapere il diciamo un occhio rivolto ai bambini c'è Anna Oliviero Ferrari che viene intervistata dal messaggero che Anna Oliviero Ferrari che è docente merito di psicologia evolutiva delle università la Sapienza di Roma che dice salviamo i riti del Natale ai nostri figli serve magia la docente di psicologia evolutiva dice tanti da mesi sono senza amici e senza nonni dalla preparazione dell'albero ai doni la tradizione va valorizzata ancora di più questo per quanto riguarda i ragazzi e soprattutto direi i bambini andiamo avanti avete visto c'è il tema delle messe e allora è il giornale che diciamo picchia più degli altri è il titolo di apertura l'Europa vieta la messa Bruxelles spegne le feste verso il divieto di cerimonie religiose vanno sostituite con iniziative online riprende il concetto a pagina 4 il giornale che dice la bozza della UE vietare le messe regioni e sci e viaggi più libertà va bene insomma questo è quello che ci dice il giornale ma è anche il tempo che su questo fa il titolo di apertura l'Europa vuole umiliare il Papa le linee guida della UE e governi chiedono di chiudere ai fedeli tutte le chiese durante il Natale nessuna evidenza scientifica è solo prepotenza su cristiani mentre su altre necessità si tace i politici entrano anche in casa dovete invitare gli stessi ospiti alle tavole del 25 e 31 dicembre insomma è Franco Bechis che la mette così e poi prosegue il suo editoriale a pagina 3 del tempo chiudiamo anche il capitolo delle messe e guardiamo quello che sta succedendo però e qui diciamo prendiamo il Corriere della Sera a pagina 5 perché indubbiamente le foto che si sono viste le cose si sono viste in questi giorni qualche diciamo dubbio lasciano anche sulla diciamo capacità di tutti di comportarsi con un minimo di attenzione affollamenti 2600 mutte nelle weekend i dati del Viminale fari sul ponte dell'8 dicembre misure speciali a Bari e Torino Cirio dice mai più scene così e allora Virginia Piccolillo intervista il sottosegretario agli interni il viceministro agli interni Matteo Mauri che dice pochi controlli si fa il massimo con il lockdown era più semplice così dice il viceministro agli interni ma anche Libero che però la mette in un altro modo e cioè dice il titolo è questo in prima pagina il governo apre i negozi poi si secca se ci andiamo tecnici e politici scandalizzati perché nelle città diventate arancioni la gente è uscita a fare spese ma è lo Stato ad aver dato il via libera e in questo modo è Libero scarica sullo Stato ma in questo senso allora vale la pena prendere il commento di Severnini sulla pagina 32 una parte ovviamente del commento di Severnini sulla pagina 32 del Corriere della Sera che tra l'altro scrive cosa fare allora per evitare che in dicembre mese di ricorrenze feste mercatini acquisti e regali si ripetano le scene viste sabato molto semplicemente molto molto semplice e molto complicato dobbiamo guardarci in faccia e dire adesso tocca a noi siamo adulti i rischi di una pandemia e le regole base per evitarli li abbiamo capiti ormai sembra una norma anacronistica e invece la regola di base di tutte le regole si chiama responsabilità se tutti evitano gli assembramenti gli assembramenti non si formano certo anche i commercianti dovranno dare una mano cercando di allungare gli orari però per esempio c'è qualcuno che propone di aprire i negozi invece di chiudere di aprire i negozi consentire i negozi di essere aperti 24 ore perché un po' come era successo con i supermercati nella prima fascia della pandemia nella prima perioda della pandemia quello consentì per esempio di diluire molto le file la pressione sui negozi va bene andiamo avanti anche perché dice sevegnini se dovessimo rivedere quello che abbiamo visto nel fine settimana in molte città italiane le reazioni sarebbero inevitabili a ragione lucazzaia se bisogna combattere gli assembramenti è inutile chiudere le piste da sci e non i grandi magazzini lo stesso vale per bar e ristoranti che pure avevano speso per prepararsi a mettere in sicurezza i locali non possono essere gli unici a pagare il prezzo della chiusura il premier conte potrebbe fare un motto se volesse nuove regole no nuova responsabilità sì solo così ne verremo fuori come sempre nella nostra storia Severgnini sul Corriere della Sera passiamo adesso alle questioni che riguardano le cure anzi innanzitutto vediamo il tema dei prima prima di medicina e vaccini i test che sono quelli che dovrebbero comunque aiutarci a individuare il la presenza del virus allora andate a pagina 5 del giornale il test rapido prima di natale non è la patente di immunità il direttore dello spallanzani dice che lo strumento è utile ma non garantisce sui contatti precedenti e successivi e questo è quello che ci dice Giuseppe Ippolito dello spallanzani a proposito dei test perché adesso c'è anche da segnalare di Fedriga non mi ricordo su quale giornale per esempio che mi forse sul Corriere della Sera a pagina 6 che dalla notizia eccolo qui funziona il test salivare Fedriga è una svolta il Friuli Venezia Giulia ed è dove è stata sperimentata si tratta di una delle numerose sperimentazioni in corso in Friuli Venezia Giulia per rifronteggiare la pandemia. Bene poi allora lasciato da parte il test occupiamoci invece dei farmaci stampa pagina 11 dice boom di ansiolitici così la pandemia ci ha reso più fragili il presidente della società italiana di psichiatria dice in aumento medicina e visite seconda ondata peggiore della prima e queste sono le conseguenze in parte della pandemia e però oltre al vaccino appunto come dicevamo ci stanno i farmaci e il Corriere della Sera a pagina 8 ci dice farmaci bocciati idrosinclorochina remdesivir plasma per la scienza non funzionano contro il virus manca ancora una terapia i farmaci bocciati dagli studi clinici questo ci dice Sergio Harari e insomma ogni tanto una buona notizia diceva quello va bene passiamo ai vaccini allora sui vaccini prendo la repubblica pagina 8 che la mette così il viaggio del gelo in 1700 vassoi ecco come arriverà il vaccino Pfizer e Michele Bocci che scrive la consegna gennaio in scatole quadrate da 23 centimetri dove le dosi possono restare per due settimane corsa per comprare 120 super frigoriferi e Moderna chiede il via libera ad Ema nei casi più gravi efficace al 100% ma a proposito dei frigoriferi vi segnalo il domani in prima pagina che mette al centro Zingaretti la regione Lazio e Atlantia il frigo per i vaccini a Zingaretti lo hanno regalato il Benetton dalla regione Lazio 618 mila euro agli ospedali per i congelatori 500 mila li ha donati Atlantia mentre il governo trattava sulle concessioni di autostrade e aeroporti di Roma e scrive sulla prima pagina del domani scrivono linea di Benedetto e Nello Trocchia la regione Lazio ha destinato 618 mila euro alle aziende sanitarie locali per l'acquisto dei congelatori dove conservare il vaccino anti covid emerge da una deliberazione della giunta eccetera eccetera ma da dove arriva quel denaro da un benefattore particolare Atlantia la holding controllata dalla famiglia Benetton che a sua volta controlla Aspi sotto indagine per il crollo del ponte Morandi e la morte di 43 persone e dice il 14 aprile 2020 Atlantia ha donato alla regione Lazio mezzo milione di euro a inizi aprire l'emergenza covid ha spinto molte grandi aziende italiane a uno sforzo per contribuire alla battaglia del paese contro il virus e Atlantia non si è sottratta ed è scesa in campo contro la pandemia c'è però qualche particolarità nel rapporto tra donatore e beneficiario Atlantia ha donato 500 mila euro alla regione guidata da Nicola Zingaretti che è presidente della giunta regionale ma anche segretario del PD del PD e anche la ministra dei trasporti Paola De Micheli che tratta da tempo l'uscita del Benetton da Aspi gli aiuti targati Benetton per l'emergenza covid sono del tutto regolari non sono i soli privati ad aver donato ma dimostrano ancora una volta la loro capacità relazionale una mancetta considerando i bilanci e il fatturato di Atlantia ma comunque un'opera di bene possibile grazie a un articolo del decreto legge 23 marzo 2020 insomma non molla la presa sulla De Micheli il domani ma andiamo avanti perché ancora sul vediamo sul Corriere della Sera il tema dei vaccini a pagina 9 se non erro i test di Moderna tra i vaccinati nessun caso grave l'azienda americana ha chiesto l'autorizzazione negli Stati Uniti e in Europa efficacia del 94,1% e ogni tanto una buona notizia ma a proposito dei vaccini voglio segnalare anche l'avvenire a pagina 6 che la mette così curare i malati e bloccare il contagio la scienza prepara la svolta nel 2021 vaccino pronto ora autorizzato e poi qui si occupa anche dei farmaci super anticorpi l'altra frontiera il laboratorio di Siena e la campagna di unico op insomma è così è l'avvenire a proposito dei vaccini voglio segnalarvi ainis sulla repubblica che si occupa del tema vaccino obbligatorio o no e impietosamente ainis mette in evidenza anche il diciamo tentennamento del governo imporre il vaccino per legge scrive ainis arrivano i primi tre vaccini pfizer moderna e astrazeneca saranno obbligatori mistero la politica è divisa con renzi per il sì salvini per il no tutti gli altri per il non so tra i virologi salsa il niet di crisanti e come al solito il governo prende tempo eppure è una scelta cruciale per la salute collettiva per l'economia per la stessa idea di libertà nel rapporto fra lo stato e i cittadini andiamo avanti e conclude così ainis c'è insomma sullo sfondo la responsabilità di una decisione la nostra costituzione non la vieta semmai l'impone ma a quanto pare il governo s'avvia verso una terza strada fra il sì e il no propende per il nì la stessa soluzione scogitata per il cenone di natale con limite di sei persone a tavola siccome non si possono spedire carabinieri in ogni casa ci giungerà alle orecchie una raccomandazione e intanto stoppa la circolazione dopo cena per evitare tentazioni risultato andremo da nonni portandoci una brandina da campeggio per passarci la nottata quanto alla vaccinazione si fa largo l'idea di affidarsi alle scelte individuali però confezionando un patentito sanitario obbligatorio per chi vuole viaggiare sicché il vaccino resta libero ma chi lo rifiuta subisce una sorta di pena detentiva da qui allora una preghiera ai nostri governanti decidete di decidere senza nascondere la vostra in parentesi decisione così ainis sulla repubblica a proposito dei vaccini ma sono da segnalare ancora prese di posizione degli esperti nella fattispecie voglio segnalare la virologa capua sul correda sera pagina 11 intervistata da paolo pica dice gli attacchi li ignoro uniamoci serve la convergenza di scienze diverse la ricercatrice ribadisce che occorre evitare di creare paura incertezza e avverte il virus continua a correre così la virologa capua che poi tra l'altro dice non sarà semplice per quanto riguarda il vaccino probabilmente la somministrazione occuperà tutto il 2021 ma a proposito di esperti voglio segnalarvi anche sul messaggero a pagina 9 eccolo qua l'intervista a pierdante piccione che è l'ex primario del pronto soccorso di lodi che dice i virologi hanno rovinato l'immagine di noi dottori dalla sua storia alla fiction doc dopo aver perso la memoria capisco meglio i pazienti oggi cure malati di covid i negazionisti dovrebbero venire a vedere chi non respira e dice a proposito gli immunologi gli immunologi che infestano i media da mesi dicono tutto il suo contrario e così la gente non ci vede più come eroi e insomma non è che abbia tutti i torti sul fatto che comunque quanto meno ci confondono le idee e avevo detto che c'è il capitolo scuola sì c'è il capitolo scuola voglio prendere la repubblica pagine 10 e 11 il giornale che sicuramente questa volta dedica più spazio alla scuola e ilaria venturi e corrado zunino ultima carta per la scuola solina chiama i prefetti gestiranno i trasporti piano per recuperare le ore perse feste pasquali più corte hanno più lungo regioni in ordine sparso protesta dei piepontesi rimasti in in dad la didattica a distanza ci prendono in giro e poi claudia brunetto a pagina 11 parla del dramma di un ragazzo autistico andrea da otto mesi non va in classe mio figlio ha perso il sorriso e poi c'è la zampa che ci dà sempre buona notizia mamma mia non credo ci saranno aperture prima di natale la data più probabile per tutti in aula rimane il 7 gennaio e va bene anche questo l'abbiamo sistemato ma in realtà invece voglio segnalarvi un bel editoriale sulla stampa pagina 27 nella pagina dei commenti della dichiara saraceno lo shopping vive la scuola muore e dice così la de black della scuola piemontese ma non solo sta tutta nella risposta del presidente della regione cilio agli studenti che gli chiedono conto sul mantenimento della didattica a distanza per le scuole medie anche dopo il passaggio della regione da zona rossa zona gialla sarebbe stato irresponsabile aprire senza avere ancora risorto i problemi di ciò che viene prima e dopo l'ingresso in classe appunto non si è fatto nulla non solo in piemonte durante l'estate per risolvere il problema dei trasporti non solo nelle città ma anche nelle valli dove il pendolarismo studentesco è molto frequente e per tragitti molto più lunghi dei mitici 15 minuti che secondo la ministra dei micheli costituirebbero miracolosamente una soglia di sicurezza rispetto al contagio dove quindi bisogna anche riflettere con attenzione prima di proporre ricette miracolistiche su sfasamenti di orari durante l'intera giornata non si è fatto nulla per organizzare le usca che avrebbero dovuto garantire la cura domiciliare a chi contagiato non richiede ospedalizzazione così come non si è fatto nulla nella programmazione un efficiente tempestivo e dedicato sistema di monitoraggio e tracciamento dei contagi a scuola e si è continuato a non fare nulla durante il periodo in cui il piemonte è rimasto in zona rossa tant'è vero che cirio annuncia che sta aprendo soltanto ora tavoli di confronto con i vari soggetti eppure sono tutte questioni di competenza regionali così come lo è provvigione di vaccini anti influenzali tuttora latitanti per dire pur appartenendo alla categoria degli ultra se settantenni anch'io come molti sono ancora in attesa di essere vaccinata solo la mancanza di insegnamenti che non permette sempre neppure la didattica in presenza non dipende dal governo regionale ma dal ministero dell'istruzione che anche quest'anno ha fallito miseramente il compito di garantire la dotazione necessaria di insegnanti all'inizio dell'anno scolastico se fossi uno dei tanti studenti delle medie inferiori e superiori che da settimane chiede di poter tornare a scuola anche solo in regime di didattica mista in presenza e a distanza ma con la possibilità di uscire dall'isolamento della casa e di avere relazioni e confronti non solo virtuali non mi accontenterei delle rassicurazioni di chi a livello centrale regionale afferma di agire in modo responsabile ma non è da prova all'atto pratico non ha neppure l'onestà di chiedere scusa per l'inefficienza del proprio governo che rischia di prolungare ulteriormente la chiusura delle scuole con gravi danni non solo per gli apprendimenti ma per l'allargamento delle disuguaglianze è vero che la debolezza del sistema sanitario piemontese e non solo sul piano dei servizi territoriali è una eredità delle precedenti amministrazioni ma non risulta che in questi lunghi mesi di pandemia sia stato fatto qualcosa per correggere la situazione allo stesso tempo il piemonte trae è tra le molte regioni che non hanno preparato il piano di riorganizzazione ospedaliera e delle terapie intensive necessario per accedere ai fondi istanziati a livello centrale è su queste cose che si misura la credibilità di un'amministrazione non sulla retorica delle buone intenzioni si tratta di mancanze tanto più inaccettabili a fronte della sventatezza con cui un minuto dopo il passaggio di colore è stato riaperto lo shopping senza preoccuparsi come amministratori delle folle che si sono certo irresponsabilmente ma prevedibilmente riversate nelle strade dei negozi come spiegare ragazzi che non possono andare a scuola perché rischiano di contagiarsi e contagiare di contagiarsi e contagiare e invece permettere salvo dolerse in ex post che ci si possa allegramente abbandonare allo struscio domenicale certo movimenterà l'economia ma sicuramente anche il virus fornendo una scusa per un'ulteriore dilazione della riapertura delle scuole così molto severa casa ma davvero bisogna dire non con molti margini di non condivisione andiamo avanti segnalo due pagine della repubblica dedicate al tema della povertà che è ovviamente un tema molto importante anche perché è crescente inevitabilmente ovunque ma anche nel nostro paese il covid trascina 5 milioni e mezzo di italiani nel tunnel della povertà si aggiungeranno agli oltre 8,8 milioni già certificati a rischio un milione di under 18 che subiscono i danni dalla chiusura delle scuole la caritas dice raddoppiati gli interventi e valentina conte che scrive sulla repubblica e questo reportage poi c'è un'intervista al portavoce dell'asvis che è giovannini e che dice bisognava diversificare gli aiuti troppa diseguaglianza e dice giovannini dal governo sforzi senza precedenti ma si è aumentato anche il risparmio vuol dire che ci sono stati problemi di distribuzione e dice ancora dobbiamo lanciare subito un enorme programma di formazione continua degli adulti non possiamo aspettare le risorse della unione europea così giovannini sul tema della povertà passiamo perché ora c'è il tema della manovra e su questo ci sono i giornali che danno un po di informazioni in ordine sparso pagina 12 del Corriere della Sera tasse sospese una parte sarà cancellata lo prevede l'ultimo decreto ristori riguarderà le attività che avranno registrato forti perdite nel periodo natalizio guadagnare con il cashback è quello di cui questo era Enrico Marro di cui invece si occupa Gabriele Petrucciani nel taglio basso del Corriere della Sera giovedì ne dico la gratis la guida con il Corriere lotteria degli scontrini con premi settimanali e mensili e jackpot da 5 milioni così il Corriere della Sera sulla manovra il tempo la vede meno diciamo allegramente e a pagina nelle pagine 4 e 5 invece mette umiliati offesi dal governo imprenditori in piazza a Roma ci hanno promesso gli stori che sono solo un contentino il movimento mio che ha promosso la protesta chiede il rinvio al 2021 degli oneri fiscali e fondi per coprire sei mesi di perdite e poi a proposito proprio della manovra cancellate le tasse rinviate nel DS Ristori Quater un fondo per eliminare del tutto le imposte sospese per l'anno 2020 per rendere effettiva la misura servirà un dpcm ad hoc la condizione per usufruirne e avere subito delle significative perdite di fatturato questo è l'anticipo che ci dà il tempo nelle pagine 4 e 5 ma anche il messaggero addirittura in prima pagina sanatoria al posto degli stori un piano per cancellare le imposte 2021 per chi ha subito perdite per la pandemia via libera un fondo da 5,3 miliardi l'esecutivo pronto a fare nuovo deficit per integrarlo e questo poi si riprende a pagina 5 del messaggero con luca cifoni questo diciamo lo 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 vediamo anche sul sole 24 ore che a pagina 2 dice caccia i finti ristori guardia di finanza e il 0 07 del fisco arruolano serpico dice analisi di rischio dei dati tra guardia di finanza e delle entrate al setaccio la liquidazione periodiche iva e le fatture elettroniche dei mesi di aprile 2019 e 2020 le frodi più gravi segnalate in procura e poi a proposito degli interventi invece a pagina 4 ristori 4 salva le regioni ex rosse dice il decreto legge correttivo in extremis per rinviare le tasse a tutte le imprese colpite anche in lombardia piemonte calabria ovviamente ex rosse non si riferisce al colore politico ma al colore delle regioni e a proposito delle contraddizioni dice doppio set di parametri per gli acconti IRPF, IRES e IRAP di novembre e per le scadenze di dicembre insomma così se volete approfondire sul sole 24 ore subito dopo la parola come sempre ci dovremmo occupare dei soldi dell'unione europea prima però c'è tutto il tema della patrimoniale e qui diciamo va segnalato il diciamo il domani a pagina 4 che la mette così tassare ricchi è possibile la spagna colpisce redditi i patrimoni più elevati l'isa di giuseppe scrive questo articolo ma lo scrive perché perché in prima pagina il direttore Stefano Feltri sposa la linea di Fratoianni Orfini e il mette così i 5 stelle difendono le rendite o il lavoro e scrive Feltri Luigi Di Maio ha perso un'ottima occasione per stare zitto leggo dell'iniziativa parlamentare di qualcuno è virgolettato è quello che dice Di Maio che vorrebbe introdurre una patrimoniale e dunque un'altra tassa per colpire imprese e lavoratori ha scritto su facebook rilevando così a di non conoscere la proposta di Nicola Fratoianni e Matteo Orfini che sostituisce l'Imu sulle case che ancora si paga e il bollo sui conti correnti con una piccola aliquota annua sui patrimoni b di non avere alcuna idea come funzionano le tasse c di non avere capito la natura della crisi del covid e il suo impatto sulla disuguaglianza per definizione l'imposta sul patrimonio non colpisce imprese e lavoratori che sono tassati sul reddito a volte quel reddito può diventare risparmio e quindi diventare eventualmente patrimonio ma l'alternativa a tassare il patrimonio cioè le rendite e tassare il lavoro cioè le imprese e i loro dipendenti di Maio oltre a non conoscere nulla di fisco ed è stato al ministro dello sviluppo non ha capito questa crisi gran parte dei redditi da lavoro esistono ancora soltanto per l'intervento pubblico sotto forma di blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali e ristori di vario genere molte imprese sono insolventi non hanno perso soltanto cliente ma hanno visto svanire un modello di business forse per sempre sono bombe in attesa di esplodere contagiando il sistema bancario che le ha finanziate dal lato dei patrimoni invece la crisi non c'è l'indice di riferimento per la borsa di Milano è invece soltanto del 5% più basso rispetto a un anno fa quando era su livelli altissimi sui conti correnti degli italiani si sono accumulati 1682 miliardi l'8 per cento in più in un anno chi ha redditi alti non sa come spendere non va al ristorante non va in vacanza non ha bisogno di aggiornare i vestiti alla moda forse soltanto gli immobili risentiranno della crisi per via del calo dei turisti e dello smart working che ma cambia le esigenze abitative di fronte a questo scenario la scelta politica economica è semplice le risorse per tamponare gli effetti della crisi vanno prese dalle rendite di oggi o delle rigenerazioni future attraverso l'emissione di debito pubblico le politiche straordinarie della bce rendono il debito relativamente poco costoso ma estrarre soldi dalle rendite costa ancora meno e ha il beneficio effetto collaterale di generare una società più equa e modificare gli incentivi se gli impieghi improduttivi di risorse sono più tassati converrà a spendere o investire invece che comprare un monolocale a nipote ventenne meglio pagargli un master se i 5 stelle pensano che il loro futuro sia nel centro-sinistra non può essere quella di Di Maio la linea da seguire qualunque forza progressista in questo momento dovrebbe lottare contro le rendite e le diseguaglianze non ergersi a loro protezione ora va detto a Feltri che non è francamente solo Di Maio nel centro-sinistra mi vale che il PD per esempio sia del tutto contrario all'ipotesi della patrimoniale oltre che Italia Viva quindi questo è il quadro ma siccome sentitevate parlare del tema dei risparmi da Feltri e questo è quello che ci dice anche il Sole 24 ore in prima pagina la tendenza del risparmio raddoppia a quota 20% del reddito disponibile una notizia che venne data in prima pagina e che poi prosegue nella pagina 8 con più dovizie di particolari e dice la propensione risparmi al 20% è indagine del intesa centro studio in Audi in Italia il risparmio sul reddito disponibile raggiunge un livello record era all'11,8% lo scorso febbraio e al 7,3% 15 anni fa e dice che secondo il sondaggio la prima ragione per risparmiare è la sicurezza per il 59,2% poi la liquidità al 36,7% il rendimento al terzo posto al 26% arriviamo al recovery fund anche perché abbiamo ancora un sacco di cose interessanti da affrontare e qui allora Corriere della Sera due pagine la 13 e la 14 perché qui mettiamo insieme sia il recovery fund che il MES perché ci sono tutte e due le cose allora pagina 13 Corriere della Sera si occupa con Francesca Basso del MES riforma del MES il SID divide 5 stelle e Gualtieri ma non significa usarlo con l'ok dell'Italia l'Eurogruppo dà il via libera lo strumento il fondo monetario risorse necessarie poi tra l'altro Federico Fubini nel taglio basso si occupa anche di un'altra questione che riguarda le banche la parità sulle banche nell'era post covid e il nodo della credibilità le mosse di commissione Unione Europea e vincilanza della BCE questo dice Fubini ma poi invece per quanto riguarda il recovery fund Monica Guerzoni firma in retroscena pagina 14 del Corriere della Sera fondi della UE, non Renziano, la task force, il governo a decidere se sarà la politica tensione tra gli alleati, Palazzo Chigi rassicura sui manager compiti di vigilanza tecnica vedrete che questo argomento è affrontato anche da molti altri giornali per esempio la Repubblica anch'essa dedica una pagina al MES e alla situazione interna diciamo in tutti e due i casi i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa aprono problemi interni in Italia a pagina 4 Alberto Dagenio linguato a Bruxelles ci parla del MES via libera della riforma MES Gualtieri dice una vittoria i dissidenti 5 Stelle non ci stanno l'Italia toglie il veto dopo un anno il 10 dicembre la firma al Consiglio Europeo ma in vista della risoluzione parlamentare i grillini si spaccano la fiazione vicina a Di Battista Di Battista minaccia battaglia ma invece se voi potete sapere cosa accade sul recovery fund è Tommaso Ciriaco che se ne occupa nella retroscena di pagina 5 Conte apre sul recovery più poteri ai ministri ai triumvri la vigilanza dopo il pressing di Zingaretti il premier assicura collegialità Palazzo Chigi dice sviluppo e tesoro non avranno compiti decisionali ma rimangono i dubbi nel PD non li risolve questi dubbi neanche il vice ministro Misiani che viene intervistato da Giovanna Vitale nel taglio basso della pagina 5 e che dice leggi speciali per utilizzare i fondi dell'Unione Europea il premier non farà da solo in Italia ci mettiamo 15 anni per realizzare una grande opera pubblica adesso serve un quadro normativo semplificato un quadro normativo ci può stare peraltro è quello che per esempio sulle grandi opere diceva anche Italia Viva il tema che questo debba avvenire fuori dalle sedi istituzionali è quello che viene contestato e viene contestato da chi? un po' da tutti abbiamo visto che c'è anche una parte del PD che non è d'accordo se andiamo sulla stampa vediamo che a proposito del MES l'Italia toglie il veto e l'UE approva la riforma ma i 5 stelle si spaccano scrivono Paolo Baroni e Marco Bresolin Crimi annuncia il cambio di rotta non ci serve ma niente barricate Gualtieri dice sarà il Parlamento a decidere se usare i fondi per la sanità e allora ci sono in retroscena di Lario Lombardo salva stati timori sul voto in aula tutti contro conto sul recovery il 9 dicembre il Premier proporrà un compromesso per placare i ribelli 5 stelle farà meno degli azzurri sulla cabina di regia dei fondi UE dice non deciderò da solo anche i ministri De Micheli e Costa sono contrari e però oltre ai ministri De Micheli e Costa c'è l'intervista sulla stampa nel taglio basso alla ministra Teresa Bellanova che dice adesso sui fondi europei è necessaria la collegialità guai ad escludere le donne la domanda che gli fa Alessandro Di Matteo arriverà dopo intanto dice scusi teme che Conte abbia in mente una gestione del recovery fund troppo accentrata in poche mani risponde la Bellanova rispondere della capacità di costruzione e attuazione del piano saranno la politica e il governo nel suo insieme serve coinvolgimento e collegialità di questo il presidente Conte dovrebbe essere garante non è questione di formale né di nomi servono progetti di altissima qualità con garanzie certe e tempi di realizzazione e sulla capacità di spesa la politica non può dimettersi dalle proprie responsabilità ancora domanda Di Matteo quindi non basta la struttura pensata da Palazzo Chigi e risponde Bellanova i soldi non devono essere rimandati a Bruxelles lo strumento funzionale dell'attuazione va individuato in questo solco si discuta di questo nei luoghi deputati e smettiamola di farlo solo al maschile non ci si ricordi delle donne all'ultimo momento ancora Di Matteo gli dice il 9 dicembre si vota la riforma del MES e i 5 stelle faticano a convincere tutti loro che succederebbe se voti di Forza Italia fossero determinanti? risponde Bellanova si aprirebbe un problema di credibilità dell'esecutivo e un vulnus nell'affidamento reciproco tra le forze di maggioranza detto questo bene se arrivano anche voti di Forza Italia ultima domanda che vi segnalo un po' più lunga questa intervista riforma a parte voi da tempo chiedete di usare il MES sanitario ma Conte continua a rimandare e risponde Bellanova il tempo è adesso non si può fingere di non vedere lo stato in cui versa la sanità nel nostro paese file d'attesa ricoveri programmati ma saltati per l'emergenza covid primari che quotidianamente lanciano l'allarme così Teresa Bellanova sulla stampa a proposito delle questioni interne al governo il giornale come volete che la può mettere il giornale è il giornale opposizione e la mette così pagina 8 ok dei 5 stelle la riforma del MES ma i grillini ora vanno in tilt Pasquale Napolitano invece sulla task force di Conte rivolta contro i 300 di Conte così commissari al governo è Laura Cesaretti che scrive e poi ancora segnala pagina 9 lo sfogo di Del Rio Del Rio si sfoga su Giuseppi si ricordi chi lo ha messo lì ed è Augusto Minzolini che scrive sulla prima pagina e poi a pagina 10 del fatto la strada del rimpasto continua a essere complicata il migliore d'Italia Viva dice i leader PD non ha carattere per una crisi e poi a pagina 10 no scusatemi questo è il il giornale invece vi voglio segnalare anche Libero a pagina 5 perché Libero va ancora più duro il salvastati sfonda il governo primo si al messe i grillini gridano al tradimento Fausto Cariotti ma a proposito di questo voglio segnalarvi due editoriali uno proprio dal giornale di Sallusti che dice tra l'altro fa riferimento a quello che è accaduto comunque leggiamo se si tiene tutto chiuso è un problema se si apre anche con cautela scatta il panico o contagio questo tira e molla sta diventando ansiogeno e stucchevole e non c'è nulla di peggio che far vivere imprese e famiglie nell'incertezza più totale come sfiora il ridicolo idea di contingentare per legge i posti a tavola durante le feste nelle case degli italiani 4 no 6 forse al massimo 8 ma che senso ha non siamo numeri siamo persone per di più non tutte uguali tra di noi c'è chi tira un sospiro di sollievo all'idea di avere una scusa per evitare il rito pranzo cena in famiglia durante le festività consacrate e chi invece per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe l'appuntamento ci sono i single e ci sono le famiglie numerose ovvio che se chiudi i negozi per tre settimane alla riapertura ci sia la rincorsa all'acquisto che non si può fermare con generiche raccomandazioni tipo state attenti certo che stiamo attenti ma è possibile prendere una decisione e tenere il punto per più di 24 ore sarebbe possibile se il governo avesse una guida forte invece di essere quella babele che ogni mattina qualcuno politico consulente scientifico che sia si alza e dice la sua c'è chi vuole aprire di più e chi di meno chi propone le ronde anti assembramento chi vorrebbe schierare l'esercito chi decide di affidarsi ai prefetti e chi alla madonna a noi piacerebbe affidarci a un governo ma non lo abbiamo non riesco a trovare un accordo non riesco a trovare un accordo su chi e su come si debbano presentare i progetti per mettere mano ai 200 e passa miliardi europei del recovery fund accedere o no ai 37 del messe è un balletto infinito fatto di sì no forse mai altro che rimpasto avanti così non ci saranno più neppure di ingredienti per impastare l'unico accordo che hanno trovato da ieri è legge è riaprire il mondo indiscriminato alle frontiere e concedere ospitalità praticamente a tutti gli immigrati che riusciranno a sbarcare sulle nostre coste se tanta unità attenzione questa maggioranza fosse capace di avere anche per risolvere i non pochi problemi di italiani sarebbe anche una notizia non dico condivisibile ma in qualche modo accettabile ma così non è e noi continuiamo a stare come d'autunno sugli alberi le foglie come diceva il sommo poeta Ungaretti ecco diciamo va tutto bene l'unica cosa che Sallusti dovrebbe dire visto che non fa altro che elogiare in continuazione il capo dello Stato che i decreti sicurezza si stanno modificando raccolgono sostanzialmente quello che sono stati rilievi fatti dal capo dello Stato quando furono fatti i decreti di sicurezza ahimè non ci sta nessun passo in avanti molto più di questo ma a proposito di centrodestra soldi messa recovery fund c'è da segnalare anche il Claudio Cerasa il direttore del foglio in prima pagina una pandemia grave ma non seria e tra l'altro scrive Cerasa sul futuro del MES ieri è stata una giornata insieme importante ma anche un po' ridicola ieri mattina poche ore prima di partecipare all'Eurogruppo il ministro dell'economia Roberto Guattieri ha anticipato alle commissioni riunite di bilancio e politica uguale ragioni per cui l'Italia si esprimerà a favore della riforma del trattato istitutivo del MES un eventuale oveto non sarebbe coerente ha detto Guattieri con la risoluzione del Parlamento del dicembre 2019 e non permetterebbe l'introduzione anticipata del common backstop una rete di sicurezza per il settore bancario in caso di crisi e nel farlo il ministro ha nuovamente ricordato che nel nuovo MES sono previste linee di credito dedicate alle spese sanitarie senza condizionalità poi qui racconta al momento 5 stelle che la manfrina del sia la riforma però non lo prendiamo e via dicendo e conclude così Cerasa e il dibattito surreale sul tema cabina di regia e il recovery è testimoniato da due punti assenti nell'agenda delle polemiche poi fa riferimento anche alla polemica che c'è stato sulla cabina di regia sull'agenda delle polemiche quotidiane questione numero 1 il tema non è se la cabina di regia serva ma se questa cabina di regia avrà o no gli strumenti normativi adeguati per fare quello che in condizioni ordinari l'Italia non è spesso in grado di fare ovvero sia spendere soldi europei in progetti credibili ed efficaci questione numero 2 più che discutere del contenitore come suggerisce un bravo deputato del PD la task force forse la task force nasce da 2-3 spinte diverse e convergenti la necessità di Bruxelles di avere qualcuno con cui interloquire in maniera seria la volontà di Conte di sfuggire alla stretta dei partiti e la necessità dei ministri di evitare il rimpasto occorrerebbe discutere finalmente del contenuto e magari dividersi non su come spendere i soldi ma su come fare per spenderli bene la traduzione di recovery fund in Italia è stata presa in maniera un po' troppo letterale un fondo di recupero non della nostra economia ma dei progetti polverosi abbandonati nei cassetti di qualche ministero il governo francese due mesi fa ha presentato in comode slide quali sono i settori che intende rafforzare nei prossimi due anni con i soldi europei il governo italiano doveva fare lo stesso a ottobre e a ottobre ha detto che lo avrebbe fatto a novembre a novembre ha detto che lo farà a gennaio arriverà prima il vaccino contro il covid che è il piano di ricovero del governo per costruire dopo covid la situazione è dunque grave ma fino a che non comparirà un qualche adulto nella stanza dei bottoni continuerà ad essere terribilmente poco seria svegliarsi please così Claudio Cerasa sul foglio segnalo ancora il messaggero da più spazio di tutti a questa denuncia che arriva dall'OMS dubbi sul piano pandemico l'OMS non risponde ai PM a Berbagamo convocati alcuni testimoni l'agenzia invoca l'immunità diplomatica faro della procura sulla data del protocollo un servizio di report accusa risale al 2006 ieri c'è stata questa importante puntata di report che ha messo in evidenza esattamente questo segnalo dal giornale per chiudere con le questioni legate in qualche modo alla pandemia anche se non direttamente perché questo brillante cosa invece risale a prima ma poi è stata utilizzata anche la pandemia parliamo dei navigator il caso ci dice Giuseppe Marino a pagina 12 del giornale tridico scarica i navigator il loro ruolo marginale l'Inps loda il reddito ma boccia il sistema a due anni dal via si ha controlli a tappeto anti furbetti si ci dicono che c'è anche la guardia di finanza che si sta occupando di questo per quanto riguarda il tema dei consulenti non soltanto di questa task force ma più in generale è il tempo con Pietro Di Leo che si occupa dei consulenti di Conte i 750 consulenti di Giuseppe ai 450 delle varie commissioni della prima ondata si aggiungono i 300 spenti per il recovery fund l'unico miracolo di Conte è moltiplicare gli strapuntini ma i precedenti insegnano che commissioni e task force non servono a nulla insomma qualche riflessione su questo bisognerebbe farlo ma allora vediamo adesso i partiti Movimento 5 Stelle segnalo a pagina 15 del Corriere della Sera l'intervista a Di Maio temo i veti stranieri per il recovery e dice tra l'altro ma insomma Emanuele Buzzi con l'intervista dice siamo in una crisi economica e sanitaria sono altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincero e si riferiva alla domanda di Buzzi alla fibrillazione del governo sulle richieste di rimpasto e via dicendo e allora Buzzi gli chiede vale a dire mi preoccupa il veto di alcuni paesi web sul recovery mi preoccupano i contagi mi preoccupano le imprese che chiudono giustamente risposte che chiedono giustamente risposte mi preoccupa l'incertezza delle famiglie i consumi lo sfrenato bisogno di visibilità di qualcuno che improvvisa una proposta di patrimoniale e in questo momento le pare normale praticamente vogliono tassare il ceto medio e qui avete visto che la risposta gli arriva gli arriva poi da feltri ma poi ci sta la cosa su Brunetta e dice che gli fa piacere i complimenti ma insomma che ognuno deve rimanere al posto suo che non ci sarà nessun rimpasto e via dicendo se volete diciamo affrontare il tema dei 5 stelle c'è il riformista che prosegue sulla questione dei soldi della Philip Morris e via dicendo allora intanto vi segnalo a pagina 3 Sanzonetti che giustamente diciamo richiama travaglio ehi Marco hai visto che casino i grillini con le sigarette altro che Renzi qui volano i milioni e dice Sanzonetti tra l'altro tutti parlano di conflitto di interessi ma il conflitto di interessi non c'entra niente se le cose sono andate come abbiamo raccontato noi vuol dire che c'è stata compravendita di voti in Parlamento non sapremo mai se è così perché le procure non vogliono indagare e dice idea una proposta sommessa a travaglio facciamo una cosa diciamo che la notizia l'hai data tu e non noi così sei contento e poi però facciamo insieme una campagna per denunciare questo scandalo 5 stelle d'accordo poi c'è anche molto interessante l'intervista che Aldo Tocchiaro fa all'ex ministro Foramonti che dice casaleggio andava alle riunioni sulla finanziaria la rivelazione dell'ex ministro dell'istruzione fuoriuscito al momento 5 stelle dice Davide è presente a tutti i vertici grillini che contavano quelli per la scelta dei ministri per la finanziaria e per il rimpasto volevo alzare le tasse a Philip Morris ma Castelli si oppose insomma in tutto questi c'è tra l'altro segnalo del taglio basso anche sempre Aldo Tocchiaro che fa parlare Calenda che dice i 5 stelle hanno nascosto i rapporti con le lobby quando ero ministro approvai un regalamento che rendeva pubblici gli incontri al ministero i grillini l'hanno abolito Patonelli mentì su casaleggio e poi se volete ancora Giovanni Guzzetta pagina 5 il guaio non è Philip Morris ma l'opacità di Rousseau le scatole cinesi il Movimento 5 Stelle frode la democrazia insomma è interessante questa attenzione che ha il riformista su questa vicenda e a proposito diciamo della presenza di casaleggio vi ricordate la procura di Firenze che dice che in qualche modo Renzi che pur non faceva neanche parte della fondazione Open ma era sostanzialmente muoveva tutto che era la protuberanza di un partito e vi dicendo ecco sarebbe interessante sapere cosa ne pensa per esempio e non sono certo io che come dire difendendo il fatto che la fondazione Open fosse un'altra cosa chiedo che le procure intervengano su questo ma se quello che dice Sanzonetti è vero e c'è che qui il conflitto di interesse non c'entra nulla e che non c'entra nulla neanche la come dire il tema di un'organizzazione diciamo parallela al partito ma il tema è la possibile compravendita di voti e insomma qui le cose sono interessanti vedremo che sviluppi avremo sotto questo punto di vista bene segnalo sul foglio in prima pagina Calettieri che fa dei paralleli tra Di Maio e Due Mattei dopo l'intesa con Salvini adesso il grillino filita con Renzi per il rimpasto intanto Guerini dice no e dice così lontani così vicini Matteo Renzi e Luigi Di Maio ecco i due ex ministri scriversi pallarsi e consigliarsi tessere trame nel palazzo in pubblico non si attaccano più da tempo nonostante abbiano imbastito per anni la guerra dei due mondi l'uno contro l'altro speculari nel sottrarsi voti e piazze sommarsi insulti e querele l'elogio dell'elite contro il populismo e il governo dei migliori alle prese con l'uno vale uno il giorno e la notte che adesso combaciano vabbè così la vede Calettieri sul foglio per quanto riguarda la Lega segnalo sulla Repubblica a pagina 15 Salvini che va da Mattarella così il governo fa saltare il dialogo il faccia a faccia chiesto dal leghista dopo la revisione dei decreti sicurezza doveva essere riservato irritazione al colle infatti non profila una parola di Mattarella su questo incontro segnalo sulla questione conte scorta e via dicendo il tempo a pagina 9 ci dice che conte al Tribunale dei Ministri la Procura di Roma indaga il Premier e trasmette gli atti sull'uso della sua scorta alle auto blu e però incredibilmente su questo tema va registrato l'editoriale di Feltri che prende totalmente le difese di Conte indagato per la scorta accusa Conte anche quando capita che abbia ragione dice credo che nessuno si stupisca se le forze dell'ordine che scortano Giuseppe Conte in un momento di libertà siano intervenute in favore della moglie o compagna che sia del Premier in difficoltà perché minacciata quando polizia e carabinieri fanno qualcosa di utile al di fuori del loro incarico specifico non solo meritano deplorazione ma vanno lodati poi dice che lui gli è stati patrico Conte ma che trova questa cosa assolutamente normale Feltri su Libero c'è da segnalare il caso Regeni lo scontro tra le procure in particolare Repubblica se ne occupa ma tutti i giornali pagina 2 IPM su Regeni processo agli 007 ma l'Egitto insiste è stata la banda a vuoto l'incontro tra le procure Roma accusa 5 agenti di servizi segreti il Cairo dice alla sbarra i criminali uccisi la famiglia si richiami l'ambasciatore Giuliano Foschini e poi Carlo Bonini la scappatoia bizantina dei due procedimenti via di fuga per i governi sì perché in realtà si aprono due procedimenti diversi dalle due procure una a Roma e una al Cairo pena di morte segnalo l'avvenire a pagina 17 è un tema che ci sta a cuore è un impegno che abbiamo avuto da sempre meritoriamente l'avvenire se ne occupa più di 80 paesi insieme contro il Boia senza lo stop non sarà piena giustizia dice inedito incontro internazionale online per dire basta la pena di morte il presidente del Parlamento Europeo Sassoli dice battersi è un dovere morale irrinunciabile poi l'illuminazione del Colosseo contro la pena di morte voglio segnalare anche la figlia di Calenda se ne occupa il Corriere della Sera a pagina 17 è stata picchiata a Parigi presumo dalla polizia Tai Calenda ferita a Parigi la violenza della polizia qui ormai è strutturale la fotografa figlia dell'ex ministro dice ho paura che moia qualcuno Stefano Montefiori la intervista sul Corriere della Sera segnalo una notizia a pagina 23 sempre del Corriere della Sera che è l'uccisione di uno spacciatore da parte di due tossicodipendenti uccidono un uomo per la cocaina fermati due ragazzi tossici a causa sua Monza l'omicidio con 20 contellate e due ragazzi che l'hanno ammazzato hanno 14 e 15 anni e qui c'è un'intervista alla madre che dice mio figlio disse che quel Cristian lo aveva trascinato nella drogra la madre del giovane che ha confessato dice ci chiese di andare al CERT ora francamente c'è una intervista anche sulla stampa a pagina 15 ma insomma i titoli saranno quello che sono però si ha la sensazione che dice mio figlio voleva smettere ma quello spacciatore non lo lasciava mai stare che lascia quasi intendere che siccome è così allora è giusto ammazzarlo e dargli 15 coltellate che poi si arriva anche a questo francamente va bene andiamo avanti per quanto riguarda i migranti sapete che c'è dibattito alla Camera sui decreti sicurezza l'abbiamo citato in più di qualche cosa ma voglio segnalarvi Libero che la mette così arriva la legge per regolarizzare l'invasione e va bene ma come abbiamo già detto qui si stanno soltanto apportando le modifiche volute dal dal Presidente della Repubblica tra le cose che voglio segnalarvi c'è Walter Veltroni che intervista sono due belle pagine a pagina 26 e 27 del Corriere della Sera Carucci Viterbi scusate che è preso del liceo ebraico Renzo Levi di Roma è coordinatore del collegio rabbinico italiano docente di pensione ebraico presso il diploma universitario triennale dell'UCEI e insomma il sentirci fragile alla fine ci aiuterà e a riscoprire gli altri una bella intervista due pagine di Walter Veltroni sul Corriere della Sera la notizia la danno tutti i giornali che a dirigere oggi la diciamo la Champions League ci sarà la prima donna arbitro e sarà proprio la Juve a incontrarla e la francese Stephanie Frappard questa è la notizia poi segnalo ancora per quanto riguarda l'Italia il sole in prima pagina ci parla di Unicredit e ci dice anzi ce lo dice la stampa in modo particolare con due pagine la 2 e la 3 e un titolo in apertura pagina 2 terremoto Unicredit lascia l'AD la linea non era più condivisa con il CDA e poi dopo si dice più vicine le nozze senesi il governo prende la guida del grande risico bancario questo ci dice la stampa e anche il titolo di apertura del sole 24 ore Unicredit a cambio di rotta Mastier non so come si chiama fuori entro aprile 2021 per quanto riguarda l'Ilva voglio segnalarvi il domani a pagina 5 che dice a Taranto l'acciaio di Stato ricomincia da 3.000 esuberi Alessio Pignatelli la mette così mentre invece il messaggero a pagina 17 ha una diciamo impostazione più positiva che è questa nuova Ilva green scontro sugli esuberi ma dice ricorso massiccia la cassa integrazione del 2021 convergerà 3.000 persone per scendere poi a 1.200 i sindacati non ci stanno insomma anche il messaggero mette in evidenza diciamo la parte più critica chiudo con la politica estera dell'Iran se ne preoccupano Repubblica a pagina 19 e l'avvenire in prima pagina con tra l'altro Riccardo Aradelli che firma l'editoriale anche questo è terrorismo omicidi mirati in Iran attacco al dialogo e poi per quanto riguarda gli USA tutti i giornali il Corriere della Sera pagina 19 ma altri sul tema della squadra di Biden che sta proseguendo e poi segnalo per chiudere pagina 15 del giornale la piazza piega Macron via la legge sui poliziotti il presidente striglia gli autori della norma che vieta di filmare gli agenti guai inutili così concludiamo la segna stampa se volete ci vediamo domani alle 7 e mezza buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti